È il momento della verità, potrebbe essere il momento della verità Perché stiamo andando un po' verso la conclusione, immagino Quindi, eravamo nel pieno dell'evasione e riprendiamo da lì Comunque, campagna che per adesso mi sta piacendo tanto Veramente tanto Dopo quella di Vanguard non avrei immaginato, però in fine di world si sa Non sarà facile entrare Aspettiamoci battuglie all'esterno Sicuro C'è tutto Armi, munizioni e cariche negli zaini Fucile rampino Risalitori? Li ho Ce l'ho Alejandro sarà vivo Contaci Con me A sinistra Sentiero Sì Perché ogni tanto mi perdi il mouse, eh? Cioè mi perdi il palo Ok Rodi Da quant'è che conosci Alejandro? Vent'anni Vent'anni Ci siamo arruolati insieme Era il duro del reggimento Non vorrei mai avercelo contro Noi dicevamo Noi dicevamo E' l'unico che può ammazzare Alejandro E' Alejandro Che significa? L'unico che può ammazzare Alejandro E' Alejandro Per fortuna è dei nostri A huevo Stop Ecco la prigione Battuglia all'esterno Dobbiamo farle fuori per entrare Due cecchini Prima torre Soap Prendiamone uno a testa Torre Shadow a terra Bel lavoro Hermanos Faccio il giro e sgombriamo il campo Rudy Dacci una mano Non sparare Devantare a via Un elicottero in arrivo Sembrano rifornimenti Ricevuto Vedo sei shadow Confermato Tre al veicolo Due dietro le rocce Uno sulla destra Prima becca quei due al veicolo Gli altri non vedranno Buona idea Soap Al mio segnale C'entra quello col berretto Fatto Check Tre Due Uno Ottimo Due a terra In movimento Prendi quei due a destra del veicolo Io penso a quello sull'altro lato Libero Via libera Andiamo alla base della torre È il punto d'ingresso Silenzio Di classe Questa devo dire di classe Andiamo lassù Ci siamo Forza tenente Sub Vai tu Vai sub Non spariamo lassù In silenzio Sì Su Ok Arrivo Alla stanza della sicurezza Insieme Cerca un portello con una scala Capito Commesso Scendi Ok Arrivo Sopra di te Ci siamo Muoviamoci Più avanti c'è la sicurezza Le telecamere sono dentro Rapidi e furtivi Due dentro Facciamoli fuori Prima che chiamino i loro amigos All'interno è meglio usare armi a corpore Via libera Useremo le telecamere per cercare i miei E trovare alle amici Serviranno diversivi Io piazzerò le cariche all'esterno Sop Dovrai guidarmi Sì Vai alle telecamere Vado Anch'io Sono fuori Tienimi d'occhio Ok Buona fortuna Sop Fammi sapere quando è sicuro superare il cancello Libero Vai Accedi alla telecamera di fronte e controlla la situazione Uno shadow Uccisione facile Beccalo Muoversi verso il camion Allora Shadow multiple Sono corazzati Stai basso Confermo Shadow sul balcone Devo avvicinarmi Parlami Puoi muoverti Uno Sinistra Spara appena pronto Non è male avere un aiutino Tenente Concentrati Johnny Era per dire Non distrarti Sergente Poi Laggiù Uno Dietro l'angolo Sali Conviene farla così Eccoti là Sul tetto Uno più in basso Scendi Hanno corazze Dovrò avvicinarmi Coltello Cazzoletto Cazzoletto a destra Perfetto Per buttare la spazzatura Sì Cazzo Che cazzo Uno di pattuglia All'interno dell'area Con il filo spinato Allora qua Già è un po' più complicata Perché c'è questo Che sta All'angolo Con l'arma abbassata Al tuo segnale Sop Consiglio un'arma da fuoco Buonanotte Testa di cazzo Vai ghost Uno Sinistra Meglio se gli spari Allora Adesso Diversivo Ottimo punto Per una carica Che ne dici Procedi pure Confermo Bomba piazzata Mi muovo 3 shadow Più avanti Uno al camion Due dietro la curva Ti servirà un diversivo Dobbiamo farlo arrivare Dentro Quindi Guardia sulla passerella Aspettati Dico quando Dammi l'ok Sop Via libera Sì ma come faccio A fargli Esplodere la bomba No Non c'è speranza Di riuscire a fare Sta cosa In maniera pulita Posso andare Johnny No Decisamente No E ora di un diversivo Pane per i tuoi denti Vai a destra Questo adesso Si avvicina E gli stacco La capoccia Adesso Non sono Tanto male Vero tenente Ho visto di meglio Tipo Me Non capire Gli altri che fine hanno fatto Ma Shadow Sinistra Sparagli subito Sali Presto Finestre aperte al primo piano Movimenti all'interno Avanti Aspetta là Dimmi quando è sicuro Libero Vai Ehm Eh Mica è chiaro Comunque Scendi Scendi Vedo un pick up Che puoi sabotare Grazie Sergente Scendi Uccidero con una coltellata Addio fottuto bastardo Non ho una telecamera Mettola carica Due piazzate Adeguata Laggiù Ne hai uno davanti Vai Ora Vai di coltello Dormiamo sul posto di lavoro Eh Ora Vuoi procedere Quel corazzato aspetta solo una bomba Ne abbiamo due lì Uno qua Uno qua Uno qua E uno di guardia Allora Eh Venirebbe liberarsi di quello che sta di pattuglia sopra Ma per arrivarci Shadow in vista È un bordello qua È veramente un bordello Eh Spegniamo la luce Questo fa il giro di qua E poi Si gira La via è libera Johnny E mi devi dal tempo Devo capire la routine Ok Ce l'ho Più o meno ce l'ho Credo di avercelo Adesso Ghost Dietro di te Mostragli qualcosa di affilato Il solito ghost Nessun pericolo Vai Ora puoi piazzare Quella carica Ok Adesso Laggiù Diretivo Ti servirà un diversivo Tutto tranquillo Due Si avvicinano a te Libero Muoviti Usa la lama Sogni d'oro Coglione Colpiscilo Bel colpo Mamma mia Che colpo Che mi ha fatto Prende a me No bel colpo Sali Liberiamo tutto Per evitare problemi Non voglio avere Impicci Shadow Più avanti Dagli una pugnalata Sparagli No Ho in mente Qualcos'altro Addirittura Esecuzione perfetta Sinistra Ora Uno Due Due In arrivo Dalla strada Falli passare Adesso Costa Non vedo Diversivi C'è un altro Corazzato Da sabotare Dimmi Quando è libero Vanno girati Allora Muoversi Verso il camion Libero Vai A sinistra Usa il coltello Eliminato Uno Vai Ghost Puoi muoverti Uno Destra Uccidilo Con una coltellata A posto Tenente Premi il grilletto E abbattilo Un altro shadow Un altro shadow Ucciso Procedi pure Uno scherzetto Per gli shadow Qui siamo pronti Johnny Abbiamo trovato Alejandro Tempismo perfetto Trovato Dove? Un attimo Porca puttana Eccolo là In isolamento Due ostili Li vedo Ghost L'ho trovato È da solo Due shadow Di guardia Va bene Vediamoci fuori dalle celle Lo libereremo Ricevuto In movimento Ottimo lavoro E guà l'amico Alejandro farebbe lo stesso per noi E so che Nick I Vacheros ci aspettano Ghost Come va? Sto arrivando Ricevuto Stiamo arrivando Occhio all'elicottero Fuori dalla sua linea di tiro Celle L'ingresso è laggiù Ci sono shadow Di guardia Mandiamoli all'inferno E andiamo dentro Via libera Manco un colpo Mi fate sparare a me? È chiusa Sfondiamo No Rudy Bussa Con me Nemici al primo piano Scendono apri Dalle spalle Sop Noi li teniamo occupati Attaccare Attaccare Con poche munizioni Dietro di te Sergente Alejandro è quassù Andiamo Molta calma Alejandro è lungo il corridoio A destra Aspettatevi uno scopo Adosso Fatevi sotto Shadow di merda Quella è la cella di Alejandro Apritela Io vi copro Johnny Appena lo faccio saltare Tu entri Siamo qui per questo Alejandro Colonello si calmi Cazzo siamo noi Sop Rudy Ghost Pensavi ti abbandonassimo? Ce ne avete messo di tempo Pendeco Ci sono Shadow ovunque qui Sarà dura Ne abbiamo viste di peggio Ci sono altri Vacheros di sopra Tiriamoli fuori Ci sono Rodolfo Hai visto Graves? No Ma intendo fargli una visita speciale Anch'io Ci sono Guardie su tutti i piani State pronti E munizioni non ne abbiamo Sop Lanciagli tutto quello che hai Dico di puta Lanciagli tutto quello che si muove Campo libero Los Vacheros sono chiusi in queste celle Ci siamo Vacheros Si torna a casa Siamo qui fratelli Vi tiriamo fuori Vediamo le porte Le porte sono motorizzate I controlli sono nel posto di comando Dall'altra parte del corrido Ci passo io Orale Misi hermano Salva la muerte Se gente parla delle armi Prendetele State qui Comandante Stas vivo D'altri con me Il dito sea Ninguna prison Puede retenere Allo Vacheros Ci sono Questa era la messa Ho perso l'appetito Orale Gli Shadow sanno di noi Attenzione Guardate in alto Eh ma vuole pure una mira discreta Andando avanti Appena ho detto ho smesso dei viali Ah troppi 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 Allora più Più veloce Più Più dinamico Ho perso la più precisa Più granate Soprattutto Guardate in alto La stanza è grande. Controlliamo che sia tutto libero. Sembra libero, colonnello. Nessuno ha minacce. Aggrupparsi alla porta. C'è un lucchetto. Faccio io. Ghost è sempre pronto. Avanti, colonnello. Via le sicure. Le scale scendono e portano fuori. Raggiungiamo gli altri e leviamoci dalle palle. Bellissima sta missione. Con l'aiuto di Johnny. Io non riesco a chiamare il suo Johnny. Non provarci. Solo Ghost può farlo. Dovremmo attraversare il piazzale per portare via tutti. Tetto, lato destro. Chi manca? Super concentrato. Super concentrato. Cecchino a terra. Bel colpo, mio hermano. Ragazzi, che botta. Ha funzionato. Andiamo. Un'arma. È bello che io stessi cercando un'altra arma da prendere. Ho fatto esplodere. Ok. Torretta più avanti. Attenzione! Fuoco alle porte. Per eliminare. Torale, che bellezza! Tutto libero. Per ora. Rodolfo, direzione. Passa per l'edificio. Lato sinistro. Questi shadow sono dei pazzi. Mercenari, Johnny. Direttanti del cazzo. Sembra tranquillo. Johnny, prendi qualsiasi cosa possa tornarci utile. Sto bene. Messo qualcuno la sua a fornire copertura. Gli altri aspettino il mio penale. Ricevuto. Primo piano! Ok. Immaginente. Dobbiamo scombrare il piazzale. No, non c'è il piede. No, non c'è il piede. No, non c'è il piede. PALLOOOOOO se fosse una volta la finestra di rilancio delle granate è imbarazzante questa ogni volta che stai lì per passa un anno secondo ti muovi di mezzo centimetro e non va per più rilanciare capito va eh le corde sono in posizione trovatele e salite ho capito per ora è sicuro ma gli shadow sono in arrivo contaci sergente mctavish felice di vederti ghost garrick price chi vi ha laswell quando shepard è sparito ha chiamato noi laswell quella donna è una roccia colonnello capitano price sergente garrick grazie ai miei serve copertura gas ghost soap coprite ora notif notif no no notif no arrivano altri veicoli da davanti alleati risalgono le corte appena sono su ce le filiamo possiamo andare ricevuto leviamoci dalle palle armonos ce ne andiamo sergente alla corda andiamo quei due sono nostri confermo rodolfo fa recuperare il mezzo ricevuto ma che lo scommet rudi vediamoci alla casa sicuro colonnello auguri capitano con me si gas guida subito go stop vediamoci salite parti gas shepard ci ha fregato ha mandato graves e lasciato a ucciderci e rastrellato i vaqueros sappiamo perché as well hai tagato cosa ha scoperto la verità c'era di mezzo lui ho scoperto informazioni segrete su un'operazione clandestina condotta dal generale shepard ed eseguita da shadow company vendevano missili balistici americani ai nostri alleati che combattevano contro i russi nel medio oriente russi nel mondo che abbiamo visto trasportiamo graves se te lo dico poi devo ucciderti sarebbe capace di farlo è un lavoro di routine ragazzi armi per i buoni tornerete alla base in tempo per la colazione comportatevi bene ci saranno bonus per tutti venite da me al ritorno agli ordini bene shepard attende un rapporto non fatelo aspettare chiudo tre container cazzo è un sacco di roba altro che routine shadow 2 a capo gold eagle in ascolto 2 tre shadow in uscita dall'autostrada 7 zulu tutto tranquillo capo ricevuto consegnate quel carico in tempo non fallite eagle chiudo non fallite lo dicevo che era una cosa importante che succede tre qui ericsson che c'è c'è un veicolo in strada un attimo arrivo graves qui vence abbiamo un problema ce ne stiamo occupando risolvete non possiamo fermarci ricevuto secondo i ricognitori sul percorso non c'era attività nemica i rapporti si sbagliavano il carico è stato avvistato prima dell'arrivo a destinazione non mi piace il suo arabo è atroce di paolo sporgiti e coprilo vado vence di paolo dategli una mano ma che cazzo contatto è uno a terra sono lì fuori di paolo che cazzo sono quelli non aspettare indietro indietro a tutti truppe sono basato in tempo fuoco nemico abbiamo vicine contatto indietro parla capo gold eagle non perdete quel carico in alto occhio a quegli edifici sul tetto rpg andiamo forza siamo circondati ma che cazzo sono capo grigliato sul porto negativo combattiamo con ciò che abbiamo generale mi serve aiuto sei tu il mio aiuto ora rimedia questi sono mercenari russi e che cazzo ci fanno a tutti abbiamo mercenari russi sul campo forze russe in campo è una roba da pazzo non c'è mai convenzione sono troppi ma la gestisci non la gestisci ovviamente non la gestisci che cazzo ci fanno è arrivato abbiamo mercenari russi sul campo forze russe in campo cazzo grigliato hai detto che la strada sono troppi grigliato servono rinforzi capo il miei non renderanno serve sul porto aereo non possiamo farlo grigliato lo sai benissimo cazzo state giù ericsson vence cazzo ericsson sono grigliato la popolazione graves hanno preso la razza i russi hanno giustiziato l'intera squadra spiato le comunicazioni della shadow sapevano di shepard la russia ha dato i missili ad assam shepard aveva buon'intenzione i carichi erano illegali e clandestini hanno mentito lui e graves nascondere il crimine è peggio che commetterlo ci stavamo avvicinando troppo e non potevano permettercelo furono rubati tre missili ne abbiamo trovati solo due assam ne ha un altro dobbiamo trovarlo l'ha nascosto perché? tutti hanno segreti capitano perché non mi ha informato? puoi considerarti più che informato adesso oh è di grande aiuto generale grazie ma è in ritardo di un giorno e con un missile in meno erano tre ne abbiamo trovati due allora vedi di metterti al lavoro in fretta e sistemare tutto e che sistema lei? io non ne ho bisogno sono un patriota che protegge il suo paese che si protegge il culo io faccio ciò che deve essere fatto e non mi farò seppellire sotto un mucchio di scartoffie e so anche cosa è meglio per la causa lei è impazzito generale la causa viene prima di tutto John bisogna sporcarsi le mani ogni tanto nascondiamo la polvere sotto il tappeto è così che funziona sì anche a costo di sacrificare i nostri devi smetterla di ragionare in questo modo e concentrarti sul vero nemico e lei deve richiamare gli shadow Graves sì è un cane che non molla l'osso ti consiglio vivamente di non provare a strapparglielo è l'ultima occasione per ripensarci e poi? poi dopo di noi verrò per lei orale macheros pongan' attenzione ascoltate riprenderemo la vostra base il nostro prigioniero e uccideremo Graves quando? ora combatteremo contro i nostri adesso non siamo la 141 nello smacheros siamo un team team ghost ci rivediamo Simon se ci state prendetene una altrimenti no le mie truppe conoscono la struttura delle forze speciales meglio della shadow saremo in vantaggio ma ricordate saranno in massima alerta dopo la nostra evasione ci infiltreremo nella base con due team ghost il team uno sarà formato dal capitano price gaz me e un pilota il team due sarà formato da ghost sop rudy e los vaqueros il team uno userà il tunnel per arrivare sulla pista e prendere un elicottero il mio pilota porterà su il capitano price farà saltare l'ingresso principale farà entrare il team due che si aprirà la strada fino a graves sospetto che sarà nel mio qg difeso dai suoi migliori tiratori mentre io e gaz metteremo al sicuro valeria il team ghost due troverà graves e lo eliminerà quattro cost nel tunnel ok i codici funzionano affermativo situazione un chilometro dal cancello ricevuto fate attenzione chiudo bel lavoro alejandro gaz dietro di lui andiamo via le sicure armanos attenzione si fermi ascoltate trappole occhio saranno collegati a degli esplosivi vince uero graves vediamo fumogeno lanciato che cazzo è come una ragnatela dovremo disattivarle ricevuto attenzione sul muro ore 12 è un regolatore bene ce ne saranno altri orecchie bene aperte i laser si muovono e i tubi li bloccano possiamo sfruttare la cosa bella idea coronello odio come ha conciato la mia base appena troviamo graves lo mattiamo questo spazio muoviti quanto è sicuro ok vai gaz aspetta aspetta che vai gaz se fa prestati vai gaz ce ne sto io a camminare sulle mine gaz disinnescalo andiamo fatti ce ne saranno ce ne saranno altri procediamo i miei usavano questi tunnel ci esercitavamo nelle fughe nelle evasioni ricordi le esercitazioni va certo comandante ci hai addestrati bene sei un bravo soldato quando sarà tutto finito verrai al mio ranch cucineremo un barbecue vado matto per il barbecue anche io attenzione più avanti apposto avanziamo vedete la porta a sinistra non siamo soli shadow quanti tre prendi quello a destra prendine uno io penso agli altri hai rischiato sergente fa silenzio c'è da perdersi qua giù per fortuna ci sono io di qua graves ha messo trappole ma non ha cambiato i codici non si aspettava di vederci qui cosa c'è? ci riporta il ruolo del suono occhi aperti per altre cariche sentito? lancia il fumo gas partito fatto capitano va avanti abbassati e passa contatto contatto fatto andiamo dietro di me avanti e poi a destra non sparate siamo al centro della base prendremo un elicottero e ti faremo debruzzare gas tu vieni con me dietro di te ti seguo due al velivolo uccidiamone ma dove? shadow intorno all'elicottero fuoco ben fatto bravo sei l'elicottero è tutto tuo portalo su e tieniti in contatto sì signore alejandro il tuo pilota è bravo? è il migliore mi auguri capitano qual è il codice? 627 speriamo funzioni ancora bingo ora lei con me a tutti i ghost uno è dentro ricevuto prendiamolo alej a tutti i ghost ho decollato e sono in sorboro ricevuto bravo sei due in avvicinamento al cancello attacca pure quando il bersaglio è marcato pensiamo che graves si sia barricato nel quartier generale entriamo ci dividiamo poi il supporto sgombra la strada con gli shadow in fuga troviamo graves e lo uccidiamo comprendes? claro e fuerte a tutti i ghost in attesa per l'irruzione sop prendi il puntatore e marchi e bersagli per price sull'elicottero ricevuto pronto bersaglio segnalato ricevuto ingaggiamo il bersaglio ben fatto bravo sei bene raggiungete il cucino e trovate graves alejandro approfitta del caos e trova maveria con me andiamo andiamo se grave se graves il quartier generale dobbiamo trovarlo continuate ad avanzare sop sop richiedo attacco bersaglio segnalato agganciato fuoco pensa ce l'è ah grazie a tutti un po' di fronte Grazie. Orca miseria, me ne so' accorto tardi. Maledizione. Maledizione. Orca miseria, me ne so' accorto tardi. 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 se fosse un milio termico forse possiamo avvicinarci al quartier generale da quella torre qui bravo sei siamo pronti a fare foto chiedo supporto per la vita su perciò 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 una cosa sbagliata c'avevo porco tutto oh sono riuscito a rilanciargli perché è successo grazie uno due e tre solo nel perimetro una 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 Ho l'impressione Che qui dentro potrebbe tornarmi Molto utile Ovviamente Versaglio marcato per il supporto C'è chi ne sopporto Superi, chiedi un attacco È l'edificio delle forces speciales Forse Graves è lì Sul quartier generale c'è ancora la vostra bandiera Facciamo in modo che ci resti Controlla quella porta È chiusa Rudy, che si fa? Sfondiamola Bene Potete ingaggiare liberamente all'interno Se c'è Graves Sparategli Ehi, Rudy Mi dispiace per la tua base Io tambien, amico Forza Tre Due Uno Adesso Bingo Ora lei, con me A tutti i costi Uno è dentro Ricevuto Prendiamolo Ci saranno parecchi Fa silenzio Se vuoi vivere Ricevuto Comunque A fine di world Quando si tratta di Campagne Single Perla Lo vi lascia Insuperabili Su questo tipo di contenuti Isolate Isolate La zona Se c'è qualcuno Lasciamo pure Che venga da noi Uno Chiudo Libero Bella mira Raggiungiamo Valeria Gli Shadow Sono concentrati Sull'elicottero Ne approfitteremo Per muoverci Esatto Tengono Valeria Nell'hangar 3 Dobbiamo arrivarci Senza farci notare Hangar 3 Ricevuto Possiamo usare i veicoli Per ripararci Stai basso Qualche idea Del perché Graves Si sia comportato così Con il gringo Sono sempre diffidente Ma con lui no Di lui mi fidavo I cattivi Possono fare del bene Vale anche il contrario Giusto Contatto Dietro di te Contatto Amico Abbiamo ferito Parti E ti chiedi Dobbiamo partire Guarda tu Fai lo spettatore Non pagante Campo libero Campo libero Piano Sergente Se spari Ci beccheranno subito Che significa gringo Nella guerra con i messicani Gli americani avevano Jack e Green Che anno era? 1847 I messicani volevano Mandarli a casa Green Go home Gringo Non lo sapevo E anche io La forza è aperta Codice 627 Valeria in un container Dentro l'hangar Sarà ben protetta Facciamo silenzio Abbiamo una squadra D'assalto fuori dal guardia generale Faranno irruzione Dovremmo venire A darvi supporto Signore No Tutti devono restare Nei settori Signori Qui io so che mi serve Passeremo all'offensiva Tutto chiaro? Agli ordini Agli ordini Chiudo Hai visto? Affermativo È il team 2 Silenziato Sta cippa Però È È Silenziato Ha finito Il colpo Via Via Libero Non stava il guardia libera Valeria Bingo Restiamo qui in attesa Che Shope Ghost e Rudy Prendano Graves Gaza Bravo 6 Prigioniera al sicuro Bene Occhi aperti Ora cerchiamo Graves Rodolfo ha i codici? No È qualcosa di un po' più potente È chiusa Rudy Che si fa? Sfondiamola Bene Potete ingaggiare liberamente all'interno Se c'è Graves Sparategli Ehi Rudy Mi dispiace per la tua base Io tambien amico Piazzala 3 2 1 Adesso Hanno tarato un pochino male Il doppiaggio in questa fase Perché Si grana tantissimo Infatti forse Per evitare che Magari abbassiamo Anche un po' Volume delle voci Volume degli effetti Così Magari vi spacca meno le orecchie Quando parla Spero Insomma Il montaggio mai ha avuto Una serie così complicata Da tarare sugli audio Veramente Ogni puntata Primo piano Moversi Uno sta ricaricando Caccio Caccio Sto rilancia Non funziona Alla sala di controllo C'è un'uscita sul retro Graves deve essere passato di lì Forza Troviamolo A tutte le unità Graves ha oltrepassato il muro Colpiti Colpiti Royce Precipitiamo Stiamo precipitando Porca puntana Capitano Quello stronzo di Graves Andiamo di là e fermiamolo Rodolfo Cosa c'è dall'altra parte? Zona di addestramento Che cazzo ci fai? Sub Fammi salire Poi ti tiro su Forza Ti afferro Ammazziamo quello stronzo Prendi la mano Ghost Vieni No Raggiungo Price e il pilota Pensateci voi Guarda Non è nostro Porca troia Graves ha un cazzo di carro armato Ovvio Che cattori sono diventati le frede Nella rottura dei coglioni Non vedo l'ora di farlo Stavo cercando di fare una cosa Che non posso fare Evidentemente Voglio fare un aggiramento veloce Sul carro armato Per saltarci su Ma non si può fare Non vedo l'ora di farlo fuori Ci serve qualcosa di più potente Contro quel carro C'è nel travalgi Guardati in giro C'è parecchia roba utile Trovo un po' di C4 da usare sul carro Tu e i tuoi amici messicani Avete infastidito l'ombra Sbagliato Vieni fuori e parliamolo Questo non è un po' di C4 da usare sul carro armato Qui le possibilità sono due Vincere o perdere Secondo voi quelle preferisco Sei dovuto creare il tuo piccolo esercito Perché non eri all'altezza di quello vero Lo stai danneggiando E' quasi divertente Sentirselo dire da te Ma anch'io Ricordo bene Il mio primo rodeo Sei sulla buona strada Per l'inferno Ti spesso Dispettate nel caso Ma non l'hai fatto Parca miseria Parca miseria Provo a tirarlo Verso di me ma E' quasi divertente Sentirselo dire da te Ma anch'io Ricordo bene Il mio primo rodeo Sei sulla buona strada Per l'inferno Dispettate nel caso No Devo Devo gestirla diversamente Devo gestirla diversamente E' quasi divertente E' quasi divertente Sentirselo dire E mi sono accastrato Parco tutto E sulla buona strada Per l'inferno Hai detto di tornartene Ma non l'hai fatto Pagherai con la vita Il C4 Usalo sul carro di Graves Tu e sto cazzo Di onore Giordi Da una settimana Di sicile Mi sono già scordato Di tutto Questo vale per te E per tutto Non credere Che lo ha 1,4,1 Siano suo amico Perché non lo sono E io Non le gusta U stessa Quando este è scompleto Los amicos Molteranno Los paccheros No Non si può fare Devo capire Devo capire come Come avvicinarmi E' quasi divertente Sentirselo dire da te Ma anch'io Ricordo bene Il mio primo rodeo Sei sulla buona strada Per l'inferno Ti ho detto di tornartene a casa Ma non l'hai fatto Pagherai con la vita Il C4 Usalo sul carro di Graves Tu e il tuo cazzo Di onore Johnny Tra una settimana Mi sfonderò di tequila E mi sarò già scordato Di lui Questo vale per te E per lui Non credere che Los 141 Siano su amicos A Rodolfo Perché non lo sono E io Non le gusta U stessa Quando este è scompleto Los amicos Molteranno Los paccheros Come fossero Merdosa spazzatura Comprende? Con molta calma Dove ho avvicinare Ma Io l'ho premuto Due volte Però Graves è scosso Continua così Dai vabbè Ve prego Ve prego Graves è scosso Continua così Ok Almeno c'è point Graves è scosso Graves è scosso Continua così Ho capito che è scosso Pure io sono scosso Inizio a essere Inizio a essere scosso Pure io Vabbè Ogni volta Però Che riesci a fare Un minimo progresso Arriva un'altra squadra Di picchiatori seriali Continua così Eh Perdiana Perdi Nooo Centrato Centrato però Parco tutto Io non Io non Non so neanche Da dove Cazzarola si guarda Dov'è? Là Parco Tutto 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 Ok L'ultimo colpo L'abbiamo fatto Ti prego Sì Sì Ce l'hai fatta Ce l'abbiamo fatta Armi normali Contro un carro Sì esatto Soppa Ghost Sono con Rudy Graves è morto Come sta Price? Male Ha perso il sigaro Nello schianto Il pilota sta bene Chiudo Alejandro La base al sicuro Graves è morto Veniamo da voi Io avrei avuto Una cosa un po' più Soddisfacente Che Paso Vaquerito De mierda Comentaste una guerra Te persigui la violenza A todas partes Me cae No hice ningún trato contigo Fueron Ellos Esa fue tu cagada Precisamente Sapevi che c'era Un terzo missile Oh non li ho contati Lo fanno altri per me Cazzate Dov'è essa? E dove è l'altro missile? Chicago Che cazzo succede? In che senso Io ho detto dove si trova Non che l'avrei fermato Esco il più onda la verga Io vi avevo avvertito Su di lei Sono solo affari Signore Se si cresce O si muore E' così che va il mondo? Ti sei messa un bersaglio Sulla schiena? No Ne ho messo uno Su Chicago Ora lasciate la salma Se andate a cercarlo Pendeco Sforza Per adesso E' tutta tua Ma torneremo Vi aspetto con ansia Andiamo Alla cincala Dob Preparati e contatta l'Aswari La sana e il missile Sono a Chicago Questa noce la salma Se scazzano Tra 24 ore Sarò libera Non posso dire lo stesso di voi Va che è rossa La pagherai per ciò che hai fatto Non importa cosa ho fatto Importa che abbiate delle prove Su Al lavoro Continua così, hermano Fino alla morte Fratello Buona fortuna Ghost No te pierdas, carnal A huevo E se in nombre ha detto che il terzo missile È stato introdotto negli Stati Uniti dal porto di Chicago Il missile è con Hassan e i suoi soldati Non sappiamo di preciso dove sia il missile Né dove sia diretto Ma sappiamo che Hassan è stato portato in un palazzo di Chicago Di proprietà di una società fittizia del cartello Lasalmas La polizia sta bloccando tutte le strade intorno al palazzo Stanno cercando un container rubato pieno di armi Non sanno che abbiamo a che fare con un missile Hassan si è rintanato in una sala server ben difesa Al 54esimo piano del palazzo Io sarò sul campo per cercare di individuare il missile Mi infiltrerò con i marine dal fiume Chicago Ed entrerò dal piano terra Io fornirò copertura da un punto di osservazione di fronte all'obiettivo Porteremo due elicotteri sul tetto del palazzo bersaglio Uno con un contingente di marine, l'altro con me e SOP Gas e i marine faranno irruzione I price e SOP si caleranno dall'alto SOP entrerà nella sala server Hassan non potrà fuggire La missione primaria è trovare e fermare il missile Ma avete piena facoltà di uccidere Hassan Oh finalmente Bene ragazzi vedrai che qua ci si può fermare per oggi Ma noi ci vediamo domani Quello che credo sarà il finale Per cui un abbraccio e a domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti